La nautica va a gonfie vele, la città va a gonfie vele, buon vento a tutti. La nautica italiana è un'eccellenza nel mondo e questo salone è tornato ad essere centrale nelle manifestazioni economiche del pianeta. L'applauso più grande agli oltre mille espositori che non hanno mai mollato anche negli anni difficili. È un insieme di emozioni a mano che entri nel salone, un'emozione che rappresenta l'eccellenza dell'industria italiana. Non abbiamo mai avuto l'ascolto come oggi da parte del governo, però dopo l'ascolto occorre l'attenzione e l'azione. Non è il comparto della nautica che deve ringraziare me per essere venuta qui oggi a colmare una lacuna di 37 anni. Sono io che devo ringraziare questo comparto. Il meglio della nautica tra imbarcazioni di tutti i tipi. Apre oggi la 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un appuntamento internazionale per un'eccellenza dell'industria italiana. Il nostro appuntamento internazionale per un'eccellenza di più ottobre. Il mio appuntamento è veramente più di più del che avevo pensato. Il sviluppo della zona dell'epocazioni è molto interessante. È una scena di proposte di un'eccellenza di un'automobile, che è incredibile, è incredibile. incredibile. Grazie a tutti.